Uno sguardo ai fatti della settimana con Beppe Severnini Ciao Daria Benvenuto, bentornato Buonasera, buonasera Il tamburo, eccolo qua Il tamburo, come farai senza di lui? Pronto, me lo porto via, settimana prossima me lo porto via Senti, si sono incontrati il nostro ministro degli esteri Stiamo più di qua che poi Fabio Calvi ci sgrida Si sono incontrati Maroni, il ministro francese Guéon Per discutere su come affrontare l'emergenza delle immigrazioni Secondo te come si mettono le cose? Male, grazie Maroni era tutto contento Era contento perché poteva andare pure peggio La domanda è molto semplice che farei a Maroni se l'avessi qua Questi tunisini in cui abbiamo dato il permesso di soggiorno temporaneo 20.000 o quanti sono Possono andare in Francia o no? Al momento sembra di no E neanche in Germania perché in serata ci ha bacchettato pure la Germania Dice no no no, le regole di Schengen sono altre Quindi sì è vero, Francia e Italia hanno deciso di fare insieme cose Davanti alla costa della Tunisia eccetera eccetera Però il punto fondamentale Questi qua possono andare in Francia con i loro permessi di soggiorno temporaneo? Sì o no? Io la risposta non l'ho capita e credo di non essere il solo Quindi alla tua domanda la risposta è male, grazie Ma siccome non è una novità assoluta quindi Anche in Svizzera hanno avuto da dire No? Gli svizzeri cos'è che hanno detto? Gli svizzeri è diverso Perché in Svizzera vanno a votare fra poco nel canton Ticino C'è questa lega svizzera I ticinesi, questa lega ticinese Che ha detto a casa gli italiani Gli italiani in questione sono quelli che vivono nel nord della Lombardia Che vanno a lavorare in Svizzera Sono circa 40-45 mila persone Tra le province di Como, di Varese, il nord del Piemonte E di fatto è una zona molto leghista Traduzione I leghisti sono sentiti dare dai terroni degli svizzeri Cioè voi meridionali a casa Che è un strano contrapasso Han tradotto Non citiamo Andreotti Che tutti lo fanno in queste circostanze Lo sai no? Dai quella C'è sempre qualcuno più a sud di noi Però questo è il caso Sei troppo colta Non mi era venuto in mente Andreotti Ma secondo me gli svizzeri non vogliono neanche Andreotti Comunque sì Non si può non citare La cosa più brutta che è successa questa settimana Che è stato il naufragio a largo di Lampedusa Con quei 250 dispersi Sappiamo che purtroppo dispersi Vuol dire morti Temo che il Mediterraneo sia da molto tempo un cimitero Alcune cose le sappiamo Altre non le sappiamo Un cimitero Nel senso che sotto l'acqua purtroppo finiscono queste storie Io penso che Uno dei motivi per trattare tutti questi argomenti Con grande cautela Io parlo dei governi È che non bisogna dare gli incentivi per partire Perché bisogna trovare qualcosa È evidente L'abbiamo detto anche l'altra volta Che bisogna fare una distinzione Ci sono dei migranti economici I tunisini sono quasi tutti in questa categoria E ci sono dei rifugiati politici Pensa ai Somali o agli Eritrei Che scappano dalle dittature E compagnia bella E poi bisogna assolutamente inventarsi qualcosa là Cioè bisogna aumentare gli incentivi a restare E l'Europa ha la possibilità di farlo L'ha fatto con l'Europa dell'Est Non vuol mica dire che la Libia e la Tunisia Devono entrare nell'Unione Europea Ma si possono fare cose I soldi che hai sequestrato questi dittatori dall'accidente Sono miliardi di dollari e di euro Investili lì nei progetti E controlla che uso viene fatto Non sai che cosa vuol dire questa gente Abbiamo trovato miliardi di euro Ai vari Mubarak, Ben Ali e Gheddafi Ecco ve li diamo a voi Queste sono cose da fare secondo me Senti a proposito di patrimoni Però si è detto con grande rispetto Vabbè è stata anche la settimana della villa Sì no forse L'ha comprata il premier alla fine Sì però ecco l'ha comprata L'ha comprata Abbiamo visto Ferrara Ha pubblicato Sì però lui a quel giorno ha detto Ho comprato una villa Poi non l'ha comprata Poi era in terreno de Madiale E i tempi dei verbi esistono Se dici l'ho comprata Doveva dire la comprerò Ma figuriamo i tempi dei verbi in Italia Vabbè comunque vai avanti A proposito di patrimoni personali Quanto ha speso in contanti Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Consiglio L'ha scritto il Corriere l'altro giorno Ha speso se non ricordo 13 milioni di euro nel 2010 7 milioni e mezzo nel 2009 In contanti Quindi gli ultimi due anni Come si fanno ad avere tanti contanti? No Come si fanno ad avere tanti contanti Se sei un uomo molto ricco Si possono avere Non a possederli, a usarli Ma io infatti ricordo Per esempio C'è una norma del 2008 Uno del 2010 Che impediscono i pagamenti Sopra i 5 mila euro Tutti lo sappiamo Quando tu che sei ricchissimo Vai in giro Vuoi comprare una cosa Da 50 mila euro Non te lo fanno Non puoi Non si può proprio farlo Non puoi pagare nulla Più di 5 mila euro Non solo Tutti qui dentro Tutti qui dentro e tutti a casa Sanno che se tu paghi L'idraulico o il piastrellista In nero Con i contanti Vai nei guai Qui Allora 20 milioni di euro In contanti Cosa se ne è fatto Io vorrei averlo Presidente Mi dica cosa fa un uomo Con 20 milioni di euro E soprattutto Perché se io pago 200 euro all'idraulico Mi fanno un sacco di storie Lei ha ritirato 20 milioni di euro In contanti D'accordo che queste ragazze Erano dei bancomat Perché se Però 20 milioni sono tanti Arriviamo al Tu c'eri Mercoledì Anzi Praticamente Intervistavano tutti te Al processo Rubi Perché eri l'unico Che sapeva l'inglese Perché c'erano Tantissimi colleghi stranieri Il processo è durato Sette minuti Non avevamo più niente da fare C'era il sole Eravamo fuori Molti di loro Li conoscevo In giro per il mondo Io ho lavorato molto all'estero E poi Era un po' surreale Ci intervistavamo A vicenda C'era per esempio Collega australiana E collega neozelandese Facevano le domande in coppia Come in un musical Bravissimi A un certo punto Gli rompe il finto Bruno Vespa E loro Poverini Non sapevano Dell'esistenza Del vero Bruno Vespa E tu vai a spiegare A un neozelandese Una roba così Erano Mi guardavano come E poi A Barbara Serra Che poi Tutt'altro so Che sarà qui Una giornalista molto in gamba Una collega proprio sveglia E venuto con un bellissimo sorriso Vestita in nero azzurro Che poi sta sempre bene Mi ha guardato E mi ha detto Beppe Beppe How do you explain Bunga bunga to the Arab world Traduzione Beppe come spieghi Il bunga bunga Al mondo arabo Orca Che poi lassano anche Allora io gli ho detto Guarda Barbara In inglese L'ho detto in italiano Vedi Barbara Bunga 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 È il suono Di decine di milioni Di teste Che picchiano contro il muro In credule Così me la sono cavata E quindi in tutti gli alberghi Del Medio Oriente Vedono Beppe Severnini Che dice questa Questa fessura La volevano sapere I dettagli tecnici Del bunga bunga Ma io mi rifiuto Io sono un gentleman E no 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 Io le barzellette Come quella del nostro capo Io non l'ho capita Quella di oggi Anzi se me la spieghi Mi fai un favore Prima raccontala però No L'ho capita poco anch'io Una storia Che una dice Era Palazzo Chigi Con dei neolaureati Molto bravi Allora ha fatto un discorso Anche criticato la Costituzione Ma già che c'era Ha raccontato una barzelletta No Innanzitutto Prima della barzelletta Ha detto Alle ragazze Siete così belle Che vi invito Vi inviterei al bunga bunga Ma è autoironico Allora no 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 Non è autoironica Non è autoironica Scusa Ci sono due elementi qua E' molto interessante Per capire l'uomo Primo La butta in ridere Cioè questa faccenda L'abbiamo detto molte volte C'è un processo in corso Con accuse gravi Dire Alle ragazze in pubblico Ma dai Vi invito al bunga bunga Vuol dire Lui è il grande minimizzatore Questo è il punto Primo Secondo Capisci veramente Che ormai lui Ha disperatamente Bisogno del pubblico Guarda tutti quelli Che lavorano in pubblico Tu forse Anch'io Chiunque Dopo un po' S'abitua e ha bisogno Del pubblico Però Deve imparare Anche a farne a meno Perché prima Lui credo che ormai Sia una sorta di Droga mentale Lui ha bisogno di un pubblico Che lo applaude Lo va a cercare Racconta le barzellette Anche quelle che non si capiscono Tu te lo vedi Berlusconi In una baita di montagna Seduto su un plaid Che legge un libro È impensabile È ontologicamente impossibile Cioè perché ormai Lui è la sua immagine Questo non è una È un fatto Cioè lui è l'immagine Se tu gli levi l'immagine E li cancelli lo specchio Non si riconosce più Vengami la barzelletta Che abbiamo ancora Tre minuti E ho ancora delle cose da chiedere Ma è troppo complicata È una donna Che si versa Dice Versami lo champagne Alla scollatura E un tedesco le dice Ma posso provare con la birra Lui dice Ma lo champagne è chic E non lo so Guarda E fa ridere Secondo te No Non l'ha capita nessuno Abbiamo qualcosa da fare Per il fine settimana Tutti a cercare di capirla Mentre tu mercoledì eri in tribunale Si discuteva E si litigava Sul processo breve Tutto rimandato Anche lì quindi Il processo breve Tutto rimandato Il problema è che Attraverso questa prescrizione Rischiano di saltare 15.000 processi Per colpa grave Quindi tutte le questioni Le morti automobilistiche Processi per corruzione E questo è molto grave Il rischio è questo Il sospetto Tanto si dice E se ne parla molto È che sia Per uscire dal processo Mills per il nostro capo Se lui volesse Scusate No E lo so Ma lui torna dentro dappertutto Non è colpa mia È colpa sua Lui basta che dica Signori E facciamo così Non vi fidate Voi credete che io Non voglia questa prescrizione Per me Benissimo Ci rinuncio da subito L'ha detto No Quindi Lo dica C'entra qualcosa Parmalat 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 è una storia di prescrizione Ma è la prescrizione esistente Quella è una legge Per farla brevissima Perché è troppo complicata Ci sono 80.000 risparmiatori Che hanno perso Una valanga di soldi Con Parmalat Che se va in prescrizione Ed è probabile che accada Il processo alle banche estere Che è uno dei vari processi 80.000 risparmiatori Perderanno tutti Quindi la prescrizione Dovrebbe scattare subito Perché il reato Da giottaggio È molto preciso Spiegarti di più È complicato Diciamo che ci sono 80.000 persone Che verranno fregate Persone normali Come al solito Chi vuole che venga fregato Loro Chiaro Tentiamo di finire Con un sorriso L'hai visto L'onorevole Menia Menia Di Futura Libertà Che gioca a un videogioco Durante la saluta della camera Che videogioco era? L'ho guardato Gli ho messo la foto Anche su Sette di settimana prossima Si chiama Angry Birds Il gioco Lui è riuscito a far saltare Un pulcino Per 227 metri Tu puoi No ma cosa ridete? Cioè In un Parlamento In un Parlamento Che ha seriamente Ha votato in maggioranza Di credere Che la ragazza Ruby E la nipote di Mubarak Mi sembra che è già Un passo avanti Cioè voglio dire Gioca 227 metri Forse Era arrabbiato L'onorevole Di Futura Libertà Perché il pulcino Ha minacciato Di rientrare nel PDL Quindi pum L'hanno sparato Chiudiamo su qualcosa Che non c'entra Bill Gates So che ti piacciono Queste cose americane Oddio L'hai sentita no? Che ha detto Che vuole fare le toilette Senz'acqua Per risparmiare acqua Cioè i bagni Le toilette Senz'acqua E guarda Ho letto una cosa deliziosa Su Twitter Uno che diceva Ai 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 Allora dovremo aprire Le Windows Che per Bill Gates Mi sembra perfetto Grazie a te Grazie a te